Ci troviamo a Querceta, in questa simpatica sede, in compagnia di Riccardo Darapella, che è uno dei candidati a sindaco per le prossime elezioni amministrative del Comune di Serapezza. Riccardo, faccio un breve anticipo. Come te sai, io non sono un giornalista serio, ma sono un intervistatore. Alcuni dicono del VIP, ma lasciamo perdere. Comunque, te sei sempre d'accordo di fare un'intervista con me? Naturalmente sì, ci mancherebbe. È un piacere. Grazie Riccardo. Allora diciamo una cosa. Quando qualche mese fa eravamo insieme ad alcuni amici Forte Marmini, è venuto fuori il tuo nome per la candidatura a sindaco di Serapezza. Allora abbiamo detto, ma che scherzo è questo che Riccardo Daforte De Marmi si sposta a fare il candidato a Serapezza? Ma non è che poi a noi ci manderanno Ettore Neri a fare il candidato al Forte? Questa è una delle prime domande che si sono domandate in tanti. Diciamo che questi sarebbero scambi molto autorevoli, a dir la verità, perché io ho fatto il vice sindaco a Forte De Marmi, lui il sindaco a Serapezza, quindi sarebbe anche uno scambio tutto sommato dal punto di vista delle qualità, anche accettabile. Naturalmente poi ci sono le difficoltà del territorio, ci sono i campanilismi, io ho avuto questa opportunità e ho accettato questa opportunità perché naturalmente tanti anni che vivo a Forte De Marmi e sono orgogliosissimo di aver vissuto e aver sposato poi una Forte Marmina doc nata a Forte De Marmi, ma allo stesso tempo ho vissuto tutta la mia gioventù e tutti i miei amicizi, le prime amicizie sono anche quelle più importanti, ce le ho tutte qui a Querceta, quindi nel momento che mi hanno detto, pensa, è poi stato Ettore Neri proprio a chiedermelo, e ai molti amici qui di Querceta, pensa un po' a venire a fare il sindaco da noi, questa è stata per me un forte richiamo al quale non ho saputo resistere. Diverso può essere, c'è la storia di Ettore che è proprio un seravezzino doc, è un po' più dura per i Forte Marmini questa cosa, è molto più facile per essere avezzini la mia presenza. Sì Riccardo, hai parlato anche della famiglia e così l'altro giorno passando per una via del Forte ho incrociato una signora, giusto la figlia della Beppina Neri, penso che la conosci. Per forza, una vita, una vita con la Beppina Neri. e che hai sposato la figliola, Elisabetta. Elisabetta Pantani. Allora gli ho detto, sai ma io andavo in bicicletta, l'ho incrociata, dico ciao, dico salutami Riccardo, mi ha detto, eh se lo vedo. Eh sì, ma ormai dal 9 d'agosto che ho deciso, che ho fatto il mio discorso iniziale a seravezza, praticamente a pranzo non ci sono più. Parto la mattina e torno la sera, ceno e riesco nuovamente. Ha ragione a dir così. Ha ragione, ha ragione, mi ricorda nelle foto. Ti ricorda, ma comunque c'è il sostegno anche della famiglia? Beh, io questo rispondo con molto piacere perché se ho fatto, ho fatto molto nella mia vita, perché poi ho fatto anche il presidente nazionale del sindacato, di categoria, quindi ho girato molto, sono stato sempre molto lontano, però mia moglie mi ha sempre condiviso in pieno. Anche ieri sera eravamo a Zano a cena, mia moglie è venuta, c'era anche mio figlio ieri sera, quindi la famiglia sposa in pieno questa mia attitudine a essere al centro di molti interessi, quindi tantissimi interessi, non solo quelli politici che poi sono, diciamo così, la mia ultima novità, perché poi dal 2007 che faccio politica io, quindi non è non è la mia passione, come dire, una passione di una vita, ho la passione per le cose che devo pensare di tutelare, come il rapporto con i cittadini, il rapporto con la gente, mi sento molto molto partecipe della vita sociale, sempre, anche la mia famiglia, mio padre, e quindi per me è un piacere e dovere quello di servire, ecco, e non servirsi. Perfetto, e ascolta Riccardo, sono già diversi anni che io dall'esterno posso notare che è sempre maggiore da parte di un sindaco, un amministratore, anche locale, avere la conoscenza, la capacità, insomma, dal punto di vista proprio dei numeri, dei conti, ecco, ma te le sei far tornare bene i conti, come sei messo a riguardo? Eh, questo è un domandone, di mestiere faccio il commercialista, tu lo sai, quindi... Ma troverete apposta. Lo so, lo immaginavo. Questo non è un colpo mortale, ma è un aiuto a un candidato sindaco. Beh, io ero assessore del bilancio a Forte dei Marmi, sono stato assessore del bilancio a Forte dei Marmi, e a Seravezza entro in un comune, anche ieri, stamattina sul giornale, parla dell'avanzo di bilancio di quest'anno, che è stato un record. Sono veri questi numeri? Sì, sì, no, no, corrispondono, tanto più che le normative sui bilanci sono sempre più ferree. La tua domanda iniziale era di, ma questa preparazione, questa esigenza di essere capaci di gestire un territorio, quanto è importante? Vabbè, se sai far di numeri è importantissimo. È vero che all'interno di un ente c'è una struttura, ci sono responsabili di gestione, ci sono responsabili amministrativi, responsabili di bilancio, che non ti fanno muovere una foglia, che non si voglia, ma insomma un sindaco che conosce queste cose è certamente avvantaggiato. E io devo dire che Ettore ha dimostrato, per i risultati che ha raggiunto, di aver maturato una forte e importante esperienza anche in questo campo amministrativo, ma dal punto di vista proprio dei numeri. I risultati di stamattina lo dicono chiaro. Lui che non è commercialista, giusto? No, no, lui non è commercialista, ma in questi dieci anni ha saputo fare sia di numeri e anche poi anche di idee, e soprattutto di realizzare, è stato secondo me un sindaco che ha saputo concretizzare i sogni che si traducono in realtà, e non è facile. Io sono una persona anch'io che vivo di queste cose, e quindi per me se un commercialista forse è più facile, ma il mestiere di sindaco è un mestiere che bisogna provarlo, finché non lo fai non sai come sarà. Infatti ogni volta che uno assume o va in questo ruolo trova le sue difficoltà, magari non in un settore ma in un altro. Ci vuole molta consapevolezza dei propri limiti, delle proprie capacità. È un lavoro molto complesso e difficile. Ascolta Riccardo, allora fin qui come sono andato? Bene? Molto bene, grazie. Io direi di spostarci un pochino verso la capitale, verso Seravezza, perché se no lassù se ne hanno a male. Il centro storico. Andiamo verso il centro storico. Andiamo al centro storico. Sei d'accordo? Perfetto. Ecco, sempre con Riccardo Taravella ci siamo spostati a Seravezza, in questo splendido palazzo medicio. Qui siamo proprio nella storia della città di Seravezza e tu senz'altro la conosci bene e sotto il profilo culturale avrai messo delle buone proposte, senz'altro anche per il discorso delle varie iniziative, Riccardo. Certamente, questo è un palazzo che affascina. Ci ha affascinato per anni e adesso che è stato poi rimesso in condizioni veramente splendide con questo prato, con le scuderie e poi con questo grande riconoscimento dell'UNESCO, questo è veramente diventato un luogo e un punto di accoglienza veramente importante. E quindi è chiaro che su questo palazzo e su quello che ci circonda e che circonda questo palazzo le iniziative saranno moltissime. In seguito a quello che già stanno facendo molto la Fondazione Terre Milice, ma certamente non ci mancherà la voglia, il desiderio di far crescere ancora di più questo luogo. Il progetto si chiama Distretto Culturale. Distretto Culturale vuol dire mettere insieme tutte quelle capacità che è un territorio e nel caso mio non vedo soltanto il territorio ovviamente di Serra Rezza, ma di tutto il contorno, dalla montagna alla piana e anche le zone limitrofe, ovviamente i territori limitrofi, metterli in sintonia tra loro e far conoscere quali sono le capacità intrinseche del luogo. Il genio sloci famoso e quindi le identità culturali di questo territorio e questa dal 1513, da quando poi tutto questo territorio passò sotto Firenze, questa è diventata una zona, diciamo, un territorio predisposto alla cultura e noi questa la dobbiamo coltivare. Quindi ci sarà questo progetto di ambito molto ampio che ci porterà a essere riconosciuti in ambito UNESCO ma come Distretto Culturale, questo è importante. Sì, ecco, e quindi io ora mentre parlavi mi ricordavo anche quando eravamo ragazzi molto giovani e anche tu partecipavi a Forte dei Marmi suonando nei vari gruppi, nei vari complessini, come si chiamavano allora, quindi tu hai una grande passione per la musica, hai il tuo fratello che lavora e collabora al Teatro del Giglio, un grande musicista. Ecco, qualcosa per esempio sulla musica che vorresti portare un domani da sindaco per Seravezza, qualche novità? Beh, la mia passione è sicuramente la musica lirica, più che altri, cioè faccio musica leggera perché mi diverto ovviamente, ma ecco, mio fratello... Anche perché non hai la voce da tenore proprio, via, diciamo la verità. Ero il cantante del gruppo una volta, una volta ero il cantante, bassista e cantante del gruppo. Ecco, dicevo, anche mio fratello, il mondo della ricca, mio padre, mi ricordo quando eravamo ragazzini, bimbetti, lui si faceva la barba e lui immancabilmente cantava lirica. E quindi c'aveva le sue belle romanze che quasi noi imparavamo a memoria perché lo sentivamo continuamente. C'aveva i dischi di Beniamino Gigli, mi ricordo della voce del padrone, l'Arlesiana, uno dei pezzi più belli. Mi ricordo che appunto quella era la passione di famiglia. E mio fratello l'ha presa proprio in pieno perché fa il musicista, fa il regista e soprattutto anche il compositore lirico, per bambini soprattutto. E io ho questa passione per la lirica, mi è rimasta, adesso che lui è al Giglio, che è il direttore artistico, vado volentieri a sentire spesso le opere che lui produce e fa produrre. E gli ho già passato un pensierino per un bel rapporto tra il Teatro del Giglio, la Fondazione Terre Medice e le realtà locali che seguono la musica lirica. Quindi l'utilizzo anche del bel teatro che avete. L'utilizzo del bel teatro, tra l'altro qui si svolge anche un bellissimo concorso lirico internazionale ogni anno. E per cui, ecco, questo sarebbe un aspetto che questa città, per questa sua origine storica, queste radici nel passato e il bel canto ha le sue radici nel passato, sarebbe bello ancora di più sviluppare. E non la vedo male, soprattutto anche coinvolgendo i nostri borghi di montagna, perché ho un'idea per i borghi di montagna, portare la nostra musica, la nostra lirica in questi borghi di montagna dove una volta si viveva di queste cose. Non c'era televisione, non c'era altro, si viveva di arie che si cantavano e si fischiettavano. Magari cantando anche il Maggio, col famoso Enrico Pea. Esatto, esatto. Quindi, insomma, questa è una delle tante idee di sviluppo. Ecco, va bene. Allora, prima che riesca a convincere Riccardo a cantarmi un'aria di pulcini così, con la voce da tenore, ci spostiamo un pochino verso il centro, perché vedi Riccardo, qui siamo solo noi, poi c'è Roberto lì davanti, un altro amico. Siamo un tre gatti, no? Andiamo un pochino verso il centro, così magari passa qualcuno, ti vede, raccati anche qualche voto, no? No, no, ma questo va bene Riccardo. Andiamo, dai. Andiamo, grazie. Finalmente siamo nel centro di Seravezza e qua abbiamo visto anche tante persone che vanno, vengono, hanno salutato Riccardo, il candidato sindaco per il comune. Ecco, com'è il paese? Come sono anche i seravezini, insomma, i cittadini? Ecco. Beh, diciamo che il mio è un approccio graduale, un approccio graduale da quercetano, diciamo così, da ragazzino a quercetano con Seravezza c'è sempre stata quella sana competizione della frazione, del comune di Seravezza e quindi ci sono anche state le vecchie storie, la trota che fu portata via dal Palazzo Medici o i batacchi della chiesa di Querceta che fu portata via dai ragazzi. In questi giorni addirittura c'erano le foto sul giornale, diciamo così, degli autori di queste cose. Ma oggi devo dire che io ho trovato un bel clima, un bel rapporto, c'è una consapevolezza delle due entità di essere, come dire, importanti, così come consapevolezza anche degli altri paesi, delle frazioni che sono in questo territorio. Seravezza è un bellissimo territorio, sono 40 km quadrati, io li sto girando tutti. Ora qui siamo nel centro storico, prima eravamo a Palazzo Medicio, c'è questa breve distanza tra questi due luoghi, tra questo punto e Palazzo Medicio, ma c'è una voglia, un'unità di far sì che tutto il movimento venga coinvolto, movimento culturale, di turismo, porti, come dire, contributi, ricchezza, movimento a questa piazza, alla città di Seravezza, ovviamente, al paese, che è questa bellissima località, che sempre più sotto questa ultima amministrazione ha fatto salti da gigante. Basta essere qui e vedere la nuova ristrutturazione della piazza, che ha dato, come dire, un certo decoro. Sì, sì, è un decoro importante. In questi giorni, quando si è parlato di accoglienza, e nel mio programma parlerò molto di accoglienza, accoglienza dal punto di vista di cosa fai trovare ai cittadini, di cosa fai trovare agli ospiti, cosa fai trovare ai turisti che vengono sul posto. Benissimo, questo si tratta di accoglienza, vuol dire decoro, capacità di essere pronti, capaci di attrarre, capaci anche di fare innamorare il luogo. Non lo vieni solo per vedere, ma lo vieni anche per viverlo. Abbiamo trovato prima una cittadina di Fortelemarmi, che adesso è una seravezina, però, che adesso è venuta a stare qui. Cosa ha detto? Ha detto che si trova benissimo. E io sono convinto che sia proprio così, perché sto frequentando Serevezza molto bene, abbastanza. La sto seguendo, perché è un bellissimo posto, mi piace. C'è anche, ovviamente, una competizione elettorale a cui tengo, e quindi posso confermare con molta tranquillità che questo è veramente un luogo ideale. Ideale che può veramente fare attrazione. Il genio sloci e le tradizioni che si vanno nella notte dei tempi di questa città, questa città che addirittura, come dire, addirittura ancora prima dei Medici, che sono poi capitati qui nel 1513, prima della costruzione del palazzo, che è nel 1531, questa era già un centro importantissimo. Qui la via del Ferro, la via dell'Argento, la via dei Marmi, sono percorsi, hanno una storia così incredibile che noi dobbiamo rivitalizzare, ricreare. E questa amministrazione uscente, ad esempio la via dei Marmi, l'ha già verificata, l'ha attuata. Ci sono stati degli interventi importanti che uniscono la montagna fino giù a Querceta. E io continuerò su questa strada. Questo centro deve veramente essere ancora di più attraente, ancora di più importante. Ecco Riccardo, allora andiamo verso la chiusura. Un pensiero anche per la montagna e per qualche altra frazione che per ora non abbiamo ancora affrontato. Per la montagna, guarda, ieri sera ero ad Azzano. Ho girato quasi tutti i paesi, le località. Hanno qualche problema importante che è la viabilità sicuramente. E anche la sicurezza di questi luoghi e l'importanza della riconoscibilità di questi borghi. Sono tutti molto belli, molto curati. Ho visto che ci sono alcuni interventi che devono essere fatti, ripeto, sulla strada, sulle strade, sulle luci. Ma ecco, è un luogo e un posto, sono luoghi e posti dove questi cittadini curano e sono orgogliosissimi del loro paese. Certo, qualche paese, e si fa presto a dirlo, dice ma questo è un paese un po' dormitorio, perché la mattina parte la persona, partano la mattina, vanno a lavorare e tornano la sera. Ecco, però il piacere di ritornarci, il piacere di trovare il loro habitat su montagna l'ho veramente sentito. Ci vogliono dei parcheggi, questo è un altro tema molto importante. Altri luoghi ti posso dire pozzi, ad esempio, molto a cuore pozzi, ripa, viabilità, attenzione, sicurezza. Ci sono un periodo molto brutto per i furti, per una certa demoralizzazione da parte delle persone di vedersi di fronte a dei problemi e dei temi così fondamentali, così sulla carta anche poco risolvibili. Beh, diamoci da fare, uniamo le forze. Ci sarà un'amministrazione, quella che io mi auguro di poter guidare, molto molto interessata al territorio e alle persone. Il mio programma, il mio programma che sto finendo di scrivere, è un programma scritto dai cittadini. L'ho pensato, ma ho raccolto, io non ho promesso niente in campagna elettorale, in tutti gli incontri che ho fatto, però ho ascoltato tantissimo e il mio ascolto l'ho tradotto in parole e in scritti su questo programma. E questo programma, naturalmente, proprio perché è scritto ai cittadini, sono sicuro che verrà apprezzato perché va incontro alle loro esigenze. Massima attenzione al cittadino e sai qual è la parola d'ordine? Massima attenzione alle associazioni. Io, da questo punto di vista, amo, adoro, se posso usare termini forti, il valore di queste associazioni che sul territorio sono diventate, oltre all'amministrazione, il punto di riferimento più importante di mille attività, di mille interessi e di mille necessità. Poi tanto volontariato. Volontariato, volontariato. Io, per quanto riguarda il mio rispetto per le associazioni e il rispetto dell'amministrazione, sarà totale. Saremo veramente importanti per il territorio. Ecco, allora Riccardo, possiamo chiudere con una battuta. Permettimi, se un domani tu dovessi, insomma, succedere, e chissà, e tu ti trovassi un pochino in difficoltà, e qualcuno ti dicesse, l'è voluta la bicicletta, ora pedali! Ma sai andare in bicicletta te? Ecco, mi ero dimenticato di dire che la mia passione, la numero uno passione sportiva è la bicicletta, per cui per me andare in bicicletta, se qualcuno dice, l'hai voluta la bicicletta, pedala, mi fa una grande soddisfazione. E non ci sarà problemi? Non c'è problema, non c'è problema, sono circondato da molti ragazzi, molti giovani, che in bicicletta ci potrebbero andare senza allenamento. Ho una squadra di otto ragazzi giovani, dentro i sedici che ho presentato. Ci sono anche altri otto, ovviamente, importanti, quattro uscenti della vecchia amministrazione, ma sono dodici new entry, e quindi io penso di avere una bella squadra anche per rispondere a questa cosa. Bicicletta, pedalare e avere la capacità di stare in equilibrio, perché poi ci vuole l'equilibrio per questo lavoro. Grazie, grazie. Allora, grazie Riccardo, un saluto a tutti gli amici di Video d'Autore, Querceda, Ribala, Montagna, Seravezza, e anche alla moglie di Riccardo, ci vuole ancora un po' di pazienza. Ora si entra nel pieno della battaglia elettorale. Ciao!